E resta ancora in sospeso per chi riceve il reddito di cittadinanza la questione delle elaborazioni mancanti, per chi riceve maggiorazioni sociali su cui dall'Istituto ancora nessuna notizia. Ma arriva un'altra indiscrezione sull'assegno unico che riguarda i percettori di RDC e quando devono fare domanda, a prescindere dal mese di stop e per finire alcune importanti scadenze previdenziali fissate al 31 marzo. Cominciamo! Ciao amici di Radio UC, sono Mattia e grazie per i tantissimi auguri di buona guarigione ricevuti nella settimana appena passata. Se sono qui forse perché hanno funzionato, quindi grazie mille a tutti anche a nome degli altri colleghi che hanno vissuto il mio stesso destino e che oggi sono di nuovo in studio. Però mi dispiace che al mio rientro non posso darti troppe belle notizie. Diamo subito il via quindi al nostro appuntamento di oggi parlando di reddito e pensione di cittadinanza. Per cui se da un lato sono iniziati gli accrediti di alcuni arretrati di assegno temporaneo su RDC, dall'altro resta ancora bloccata la questione delle elaborazioni mancanti. Come abbiamo visto anche la scorsa settimana, per chi aveva subito il taglio della ricarica per le maggiorazioni sociali sia a gennaio che a febbraio, questo stesso taglio è stato applicato anche sulla ricarica di marzo. E l'elaborazione è avvenuta senza problemi, si fa per dire. Al contrario, non è stata ancora fornita da IMS una comunicazione ufficiale in merito alle tempistiche di queste travagliate lavorazioni per i percettori DRDC che il taglio lo avevano subito solo a gennaio ma non a febbraio. Tuttavia è bene sottolineare che dovremo comunque avere un esito prima della fine del mese, per quanto questo si prospetta essere non certo dei migliori. E ancora il problema degli indebiti, anche qui in assenza di specifica comunicazione da parte di IMS in tanti. Ci avete segnalato che la vostra domanda risulta sospesa per precedente, in debito non sanato. E questo vuol dire, in poche parole, che se abbiamo subito una revoca del reddito di cittadinanza perché lo avevamo percepito senza averne diritto, ciò ha comportato anche la necessità di restituire anche le somme percepite sulla base di questo errore. Di conseguenza, IMS adesso ha bloccato i pagamenti sia per chi si trova in revoca, sia per chi avesse iniziato in passato un piano di rateizzazione di questo indebito. E la situazione resterà la stessa fino a quando il debito accumulato non sarà sanato del tutto. Ad ogni modo, restiamo in attesa di aggiornamenti e non appena ce ne saranno di attendibili, intendo, li condivideremo qui come di consueto. Poi torniamo alla questione assegno unico e rdc, per cui mentre attendiamo il messaggio IMS con tutte le specifiche, le pagine social dell'istituto continuano a darci indicazioni che prendiamo sempre con le pinze, quindi asterisco al suo posto. Come sappiamo, l'assegno unico e universale spetta d'ufficio, e cioè in automatico, su rdc. Ma come per l'assegno temporaneo ci sono dei casi in cui è necessario fare domanda. Il primo, che abbiamo visto la scorsa settimana, è quello del mese di stop rdc, dopo un ciclo di frizione dei 18 mesi. Il secondo, invece, è il caso in cui sì, il nucleo familiare risulta percettore, ma la persona per cui si avrebbe diritto all'assegno non è figlio del titolare della card. Mi spiego meglio con un esempio. Ipotizziamo che nel nostro nucleo familiare, ci sono un minore, la madre del minore e la nonna di questo minore. Il nucleo familiare percepisce rdc intestato alla nonna. Per il minore spetta comunque l'assegno unico, ma in questo caso, anche se rdc riguarda tutto il nucleo familiare, visto che il minore non è figlio diretto dell'intestatario della card, ma appunto nipote, per ottenere l'assegno, la madre dovrà comunque presentare la domanda. Ora, questo è quanto ribadito dai social dell'istituto. Non ci resta che attendere il benedetto messaggio per confermare la situazione e soprattutto per capire, tra le altre cose, se in questa circostanza l'assegno spetterà in misura intera, oppure se sarà integrato con l'importo della ricarica. In ultimo, prima di salutarci per la fine di questo mese, ci sono anche altre scadenze molto importanti. Infatti, entro il 31 marzo sarà l'ultimo giorno per presentare domanda del contributo genitori disoccupati o monoreddito che hanno figli disabili a carico, che abbiamo ribattezzato per semplicità bonus per la disabilità dei figli, di cui abbiamo parlato in passato e trovi qui tutti i dettagli. Non solo, il 31 marzo è anche il termine per la comunicazione dei lavori usuranti svolti nel 2021, obbligo in capo ai datori di lavoro, che però è di particolare importanza per i lavoratori che intendono accedere ad alcune agevolazioni contributive per andare in pensione. Tra queste anche l'appe sociale, l'anticipo pensionistico che è stato prorogato per tutto il 2022 e per cui proprio il 31 marzo è prevista la prima scadenza per presentare all'Inps la domanda di certificazione del diritto. La prossima scadenza è quella del 15 luglio e l'ultima finestra è quella del 30 novembre 2022. Detto questo, grazie per aver guardato fin qui, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!